Nelle campagne di Casadio di Argelato è stato inaugurato martedì il cantiere per la realizzazione del centro Dopodinoi e Multiutenza, voluto dalla Fondazione Carisbo. Alla cerimonia di posa della prima pietra sono intervenuti tra gli altri il cardinale Matteo Zuppi, la vicepresidente della regione Ellish Lane e il presidente dell'opera Padre Marella, Michele Montano. Il cantiere rimarrà aperto per circa 15 mesi e saranno ristrutturati alcuni edifici rurali esistenti nella cosiddetta Corte Palazzo, di proprietà della Fondazione Carisbo, come spiegato dal presidente Carlo Cipolli. Corte Palazzo è una donazione della signora Maria Grazia Cuccoli scomparsa nel 2008. Ci sono due edifici principali, la villa destinata alla residenza e un edificio adibito a stalla fienile e deposito mezzi e attrezzi agricoli, oltre a un fabbricato accessorio e di una corte alberata che circonda i fabbricati. Il progetto prevede per i disabili da 4 a 6 posti, oltre a un educatore per le famiglie in disagio abitativo, 12 posti e poi ci sono una sala polivalente, laboratori, un ristorante per 52 persone per tenere anche eventi e iniziative, una abitazione del custode e il parcheggio che conterrà circa 25 automobili. Il complesso edilizio con finalità sociali verrà intitolato a padre Gabriele Digami, indimenticato direttore dell'opera Padre Marella e socio della Fondazione. Mi sembra una bellissima intuizione che sia dedicato a padre Gabriele, che l'opera Marella porterà avanti questa struttura, è anche un motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Penso che la beatificazione dell'anno scorso continua a dare dei frutti, l'amore lascia sempre dei frutti e l'amore produce amore.